Il ponte sente lungo verso la riapertura parziale al traffico, pronto il progetto esecutivo dell'ANAS che prevede il ripristino del transito a senso unico alternato dopo il completamento dei lavori sui due piloni compromessi e intanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato a Roma il presidente della provincia di Sernia Alfredo Ricci e il presidente della provincia di Chieti Francesco Menna per un tavolo tecnico di confronto incontro fissato al 20 aprile nel di Castero guidato da Matteo Salvini si discuterà sulla soluzione proposta da ANAS, sui tempi di realizzazione dei lavori, sulle modalità per reperire i finanziamenti necessari, interventi divisi in due fasi. Stando a quanto si apprende dai ben informati l'investimento previsto sarebbe pari a 25 milioni di euro, 10 per il consolidamento delle pile 2 e 7 e altri 15 per l'adeguamento strutturale del viadotto chiuso dal 2018, una previsione diametralmente opposta rispetto a quella presentata da ANAS in conferenza stampa a Isernia a maggio scorso. In quell'occasione i tecnici avevano dichiarato che per riaprire il ponte sarebbe stato necessario un intervento sull'intera struttura dal valore di circa 50 milioni di euro. Maggiori conferme arriveranno sicuramente dal tavolo convocato a Roma, ma intanto i cittadini si augurano che questo possa essere davvero il punto di svolta, la prima pietra verso la riapertura di un'opera di collegamento fondamentale per il tessuto socio-economico dei territori dell'Alto Molise e dell'Alto Vastese.